amiche elettrici amici lettori ben ritrovati qui su gocce di libri io sono daniela e venerdì mattina e visto c'è un'allerta meteo noi siamo a casa e ovviamente ho dovuto attivare la ring light perché il cielo abbastanza spuro e quindi insomma non sarei riuscita a registrare bene neanche nel mio angolino e così ho deciso di cambiare postazione qui nella mia cameretta e ho detto adesso mi siedo comodissima sul letto e chiudiamo il cerchio delle letture di agosto avrei quattro libri di cui parlarvi però uno lo accantono perché è la casa del mago di emanuele trevi che fa parte della terzina dei finalisti del premio booktube italia visto che gocce di libri è uno dei canali che dovrà votare per il vincitore ho deciso di trattenermi da fare le mie considerazioni sui libri perché tra l'altro ho finito anche la ricreazione finita di ferrari e quindi farò un video dedicato quando sarà tempo parlando di queste tre letture perché piccolo spoiler ottobre leggerò anche la sindrome di rebenson di giuseppe 40 e quindi pensavo di raggruppare la discussione di questi tre testi quando sarà tempo vicino alla votazione se non dopo e svelarvi poi anche a chi andrà il mio voto quindi in realtà oggi parliamo di tre libri e sostanzialmente vorrei iniziare con la porta delle lacrime di adran berghese perché è stata anche la mia prima lettura di agosto che per qualche ragione stavo rimandando di parlarvene perché credo che nel primo video delle letture di agosto avevo scelto di sentimento di parlarvi di altri libri allora sarà un video abbastanza rilassato infatti adesso mi appoggio qui è la mia testata del letto fatta da me tra l'altro con delle vecchie porte di un armadio che era dei miei giritori e che stava in garage ho detto fammele ricoprire di stoffa anche se questa stoffa mi ha un po stufato adesso mi sa che cambierò qualcosa prima o poi comunque la porta delle lacrime questo è un libro che è uscito dopo il patto dell'acqua per neri pozza ma in realtà verghese lo aveva scritto prima della il patto dell'acqua e credo che in qualche modo si capisca si veda quanto poi nel secondo libro la scrittura di verghese si sia raffinata non che in questo caso la narrazione non sia fluida non sia coinvolgente ma comincio subito dalla critica la più grossa critica che posso fare questo libro secondo me è troppo lungo sono 600 e passa pagine secondo me saranno 400 forse si condensava meglio la storia e certe parti forse potevano essere evitate premessa verghese è un medico quindi in questo libro soprattutto si dilunga moltissimo in spiegazioni chirurgiche che lasciano il tempo che trovano nel senso che se non sei un chirurgo magari non le apprezzi e se non sei un chirurgo non riesci neanche a capire esattamente che stai facendo lì dentro un altro aspetto negativo secondo me è proprio la parte iniziale del libro che racconta la storia di questi due gemelli che nascono da una suora una suora indiana che lavora in un ospedale credo dell'etiopia adesso sono passati due mesi abbiata pietà mi ricordo esattamente la location anche non avendo il libro con me e da un dottore inglese che lavorano entrambi in questo ospedale lei arriva come volontaria o come suora appunto che vengono dislocate anche negli ospedali ovviamente stiamo parlando non mi ricordo la tempistica del romanzo ma credo siamo negli anni sessanta all'inizio del romanzo forse un po prima e quindi questa suora diventa l'assistente di questo medico e in un raptus notturno cui lui era ubriaco fradicio perché era dedito al bere mette incinta questa suora però non si ricordava che l'aveva messa incinta anche perché lei non gliel'ha detto e ha nascosto la gravidanza quindi quando è stato nel momento del parto a cui lei purtroppo non sopravvive il medico rimane di stucco e talmente scioccato che parte se ne va sparisce e quindi questi due gemelli vengono poi accuditi da un'altra ginecologa che lavorava in ospedale e un altro medico che era un medico generico un po farfallone però che era molto innamorato di questa ginecologa e credo che loro due in realtà siano stati i personaggi che io ho amato di più per tornare alla critica all'ulteriore critica che mi stavo dimenticando via strada facendo è che il momento del parto di questa suora è durato tipo 50 pagine quindi perché ovviamente era un parto molto difficile però per me è stata una lettura molto molto sofferta perché poi si divagava in altri parti che insomma non avevano il senso di esistere in quel momento perché c'era talmente tanto il pathos di questo parto che comunque sapevamo andava a finire male perché scritto nel secondo è di copertina ma almeno lasciateci un po' di saspen no niente è così quindi per quello ve lo spoilero questi due gemelli sono legatissimi tra di loro hanno come tutti i gemelli immagino i loro modi per comunicare però questa armonia viene spezzata dall'arrivo di una ragazza che è la figlia di una delle governanti della casa insomma dove loro abitavano con i loro genitori adottivi e questo distacco si prolungherà poi man mano che loro crescono questa ragazza avrà anche un'influenza negativa su altri aspetti delle loro vite infatti poi merion il uno dei due gemelli sarà costretto non vi dico perché ad abbandonare l'etiopia e andrà a continuare il suo studio il dottorato e poi eserciterà a new york a new york poi si imbatterà con la figura del padre che nel frattempo diventato un medico molto affermato e questo poi sconvolgerà ancora di più gli equilibri della famiglia e tutto il resto insomma anche dei gemelli però ecco insomma il libro a me è piaciuto ci sono stati momenti anche molto emozionanti eccetera ma ogni tanto mi perdevo mi perdevo appunto perché era un po' prolisso e un po' divagante mentre nel patto dell'acqua io ho trovato alcune divagazioni molto interessanti molto coinvolgenti è un po' lo stesso discorso che ho fatto con l'isola dei fucili di amitav gosh che ho letto poi a luglio e di cui vi parlavo quanto ho apprezzato quel romanzo nonostante le divagazioni ecco quelle divagazioni per me erano molto interessanti magari non aggiungevano nulla la storia di per sé ma erano delle nozioni che io ho apprezzato invece in questo caso erano un po' ridondanti ecco e comunque ho dato lo stesso quattro stelle perché la storia meritava ma non cinque come avevo dato nel patto dell'acqua l'altro libro di cui voglio parlare è il fidanzamento del di mister hire che è un romanzo di george simenon che ho letto per il mio gruppo di lettura della biblioteca locale allora questo libro come tutti i libri di simenon almeno questa è l'idea che mi sono fatta per il momento perché ne ho letti due o tre mi ricorda molto i film noir francesi quelli degli anni 50 60 ve lo ricordate jean gabin che era uno dei miti di quell'epoca dove tutto è molto silenzioso dove tutto è avvolto nel mistero dove c'è sempre un po di nebbia ma anche una nebbia figurativa che ti scappa sempre qualche elemento per cui riesce a decodificare la storia il mistero eccetera e anche in questo caso è stato così il protagonista questo signor hire è un disadattato un emarginato che vive da solo ha editato dal padre un mestiere un po da imbroglione diciamo così e anche un voyeur perché lui ha questo vizietto di guardare fuori dalla finestra nella finestra opposta abita una donna che lui ama osservare ma insomma diciamolo anche lei anche a lei piace essere osservate quindi lascia spalancata la finestra e si fa guardare però questa donna poi lo porterà ad essere un capro espiatorio per un omicidio che lui non ha commesso e quindi non vi racconto altro della storia però quello che mi sembra george simenon voglia far arrivare è che spesso quando noi ci affidiamo agli stereotipi oppure magari anche alla sola apparenza delle cose delle persone si possono prendere dei gran granchi e si può arrivare a una conclusione sbagliata e in questo caso anche abbastanza drammatica quindi non posso dire che i gialli di simenon mi scombussolano la vita come magari mi rende così partecipe un giallo che ne so di di manzini oppure di jolico il giallo nel vero senso della parola ma comunque i gialli di simenon secondo me hanno una profondità diversa e quasi tutti i suoi personaggi che finora ho incontrato hanno questa caratteristica di una grande solitudine e di un grande disagio nel rispetto della società ed è molto triste se se la si legge così io che poi non sono una persona che disdegna la solitudine e apprezzo molte delle caratteristiche della solitudine perché può essere introspettiva e arricchente non ha sempre una connotazione negativa ecco comunque nei romanzi di simenon sicuramente sembra abbastanza deleteria la solitudine e veniamo all'ultimo libro di cui vi parlerò oggi che la fabbrica dei destini invisibili è il primo libro di cecile bodin questa autrice nuova autrice ha lavorato nei servizi sociali e quindi credo che si sia anche un po' ispirata a questo libro che in realtà però si svolge nell'età della rivoluzione industriale protagonisti sono come scenario intendo un orfanotrofio e una fabbrica la trama di questo giallo è abbastanza intricata devo dire ma poi quando la matassa si dipana si apprezza molto come insomma è stato sviluppato il racconto complesso in cui sono coinvolti diciamo dei bambini vengono sfruttati nel lavoro dico altro i personaggi sono ben delineati e il ritmo è abbastanza incalzante comunque non così veloce perché ti dà adito anche a conoscere bene le personalità dei personaggi di chi investiga e anche delle suore coinvolte e anche delle persone che stanno al di là insomma perché c'è questo collegamento tra questo convento e una fabbrica dove appunto c'è il lavoro minorile darà adito a queste ricerche ovviamente ci sarà il classico omicidio di due gemelli che però sono già diciamo quasi adulti insomma hanno intorno ai vent'anni e anche qui non c'è spoiler perché è scritto nella seconda di copertina e mi è piaciuto molto questo romanzo giallo e ogni volta che leggo un giallo dico dovrei leggere più giallo perché poi sono quelle letture che fai in spensieratezza nonostante ci siano dei morti eccetera però è finzione non è la stessa cosa come magari leggere un libro tratto da una storia vera perché lì insomma arriva proprio l'emozione fortissima ma a livello di coinvolgimento devo dire che mi ha veramente appassionato allora amici siamo già e saluti ho fatto presto oggi vi aspetto la prossima settimana non so ancora se riuscirò a preparare il video per mercoledì ma comunque se non mi vedete mercoledì sarà presente sabato e il prossimo video sarà dedicato alla mia tbr di ottobre che sta scalpitando ma nel frattempo io cerco di finire per settembre altrimenti continuerò a ottobre questo preziosissimo libro che è un gentiluomo a mosca che non so se ve l'ho già detto ma per me questo è un dicens cent'anni dopo perché proprio questo questa ricercatezza del linguaggio è come un giocoliere towels che veramente formula queste frasi così ricche ci vuole il suo tempo a leggerle e ad apprezzarle quindi è una lettura che mi sto proprio godendo e forse lo sto leggendo lentamente perché non voglio che finisca non lo so voi avete questo rapporto con qualche libro fatemelo sapere quindi vi aspetto nei commenti e ci vediamo la prossima settimana un abbraccio buone letture